Juventus, Allegri cerca il post Pogba, Giuntoli affonda il colpo. La Juventus deve fare i conti con la questione Pogba. Allegri è alla ricerca del sostituto. Con Giuntoli pronto ad affondare il colpo per gennaio.È ancora da stabilire il futuro di Paul Pogba. Anche se, a quanto pare, la Juventus dovrà rinunciare al proprio numero di Aichi. Forse, per tutta la stagione. Nonostante i bianconeri non abbiano le coppe, privarsi del proprio leader tecnico non è una bella notizia per Massimiliano Allegri. Che intende piazzare nuovi innesti per migliorare la rosa e dare continuità ai propri risultati, alquanto altalenanti nelle ultime due stagioni. Per questo, Cristiano Giuntoli prosegue il proprio lavoro sul calciomercato per aggiungere un centrocampista di qualità ed esperienza. Allo scopo di consentire a Max una maggiore varietà di scelte. Juventus, o Ibgerg il colpo Scudetto. La mossa di Giuntoli potrebbe concretizzarsi già a gennaio, con il direttore tecnico bianconero che starebbe pianificando l'assalto a Pierre-Emilio Ibgerg, centrocampista del Tottenham. A riferirlo è la Gazzetta dello Sport, secondo cui la Juventus avrebbe intenzione di accelerare per il danese per alimentare le proprie speranze Scudetto.Difatti? L'obiettivo dichiarato dei bianconeri è la qualificazione in Champions League. Ma in un anno senza coppe, la Juventus non può esimersi dalla lotta per la vittoria finale, come da tradizione. Alla luce dello stop di Pogba, la volontà di Allegri è, quantomeno, quella di avere un sostituto adeguato. Per garantirsi una certa solidità in una mediana apparsa troppo fragile negli ultimi anni e puntare decisamente al massimo obiettivo. L'ostacolo principale è il prezzo del cartellino di Ibgerg, valutato 30 milioni dal Tottenham.